Era un simbolo per la lotta della protezione delle specie e rischio estinzione è stata soppressa dai veterinari dello zoo di Hong Kong, la femmina di panda più anziana tenuta in cattività. Jia Jia aveva festeggiato i 38 anni lo scorso mese di luglio. Secondo il WWF sono ad oggi meno di 2000 gli esemplari di panda esistenti in libertà.